è un diciamo un tema abbastanza difficile perché noi abbiamo poco tempo risparmiandolo nella prova precedente con le carotine adesso avete 12 minuti quindi c'è modo di poterlo fare soprattutto se vi prendete la pasta all'uovo pronta la cosa è farlo fatto bene chiuso bene cotto bene e anche condito non troppo bene vediamo se ci siamo capiti penso io a Chiara diciamo spesso questa cosa se c'è un ripiano dentro non necessita di troppe cose ridondante fuori 30 secondi per fare la spesa per fare il vostro raviolo perfetto il campanello serve per rientrare dentro se vi dimenticate qualcosa se siete bravi e concentrati sarà un mio aiuto manuale 30 secondi via come lo vuoi ma sì carne carne allora prosciutto cotto e formaggio primo sale in parti uguali maggiorana fresca o maggiorana secca a scelta vostra per la pasta all'uovo due uova intere tre tuorli e poi farina finché ne prende all'incirca 450 grammi con un pochino di farina di grano duro per stendere la pasta burro e acqua basta stop al tempo fiori ovunque vedo vabbè 12 minuti 12 minuti vediamo via il tempo allora io faccio così guarda allora è un raviolo che normalmente si fa affogato nella salsa di pomodoro però a me piace fatto in bianco cioè il prosciutto cotto soprattutto se prosciutto cotto arrosto quindi bello profumato lo tritate al mixer insieme al formaggio primo sale che dà questo effetto pastoso ma non appiccicoso e farinoso come la ricotta rimane più sgranato si mettono insieme alla maggiorana e si fa il ripieno di questi ravioli che devono essere belli ciccioni cioè tanto ripieno dentro li fate bollire e vanno semplicemente lucidati in padella con un pochino di burro e l'acqua di cottura emulsionati insieme che vanno a glassarli e magari anche lì in po' di maggiorana questo è proprio quello classico servito con un po' di grana e pepe nero altrimenti con il vostro sugo di pomodoro preferito sono buoni anche rigratinati con la mozzarella sopra però a vostro gusto allora 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 Fabrizia sì che fai allora faccio dei ravioli ripieni di cipolla rossa di tropea con del pecorino e del cacao amaro gratinato sopra del cacao del cioccolato del cioccolato allora lei è una di quelle che sa girare bene il bicchiere tu sei sommelier sono sommeliesi da un anno circa e fai la cuoco a domicilio mi piacerebbe sto incominciando a a cimentarmi in questo lavoro che è lavoro comunque passione e fai parte di un'associazione che tutela che tutela i prodotti tipici e l'associazione nazionale cuochi a domicilio io e la mia amica Elena Curzio abbiamo da un anno circa abbiamo creato questa associazione praticamente facciamo delle cene a domicilio con l'utilizzo dei prodotti del territorio con un coltellino che non era proprio quello adattissimo però ti sei trovata bene hai tagliato questa cipolla lì hai già infarinato il tagliere l'acqua è calda ma è sciapa dentro quindi ci va la cipolla e poi la condisci con il cacao e il cioccolato e lo zafferano dove va? no i pistilli di zafferano sono per decorazione questo è un pecorino lavorato come un grana che è della zona dell'anglona lo zafferano come decorazione? non lo metti no ti prego ma non per te perché è una cosa che è carissima stupenda che dà tutto in infusione e in decorazione sono tipo soldi cartocciati e messi lì ok non lo mettere figliati di lui Samu allora lui già sorride e san tranquilli niente barzelletta niente imitazioni che ci metti i fiori in questo impasto? si della robiola erbe di campo un po' di parmigiano e dei fiori ok saltato con delle mandorle e del burro l'importante è che nella pasta all'uovo mi diceva Chiara Maci l'altro giorno che quando poi viene spadellata c'è bisogno insieme al burro e il grasso che ci si mette in padella dell'acqua perché se no rimane comunque asciutta vero lo sapevi no? Si, ok stupendo! Lui è maître dove? A Rizzone in albergo A Rizzone? A Rizzone! Rizzone, dunca male fare il Met a Rizzone. Sei fidanzato? Sì, da quanto? Da un annetto. Ok, allora si può dire. Come si chiama da tua ragazza? Laura. Laura, si sta parlando di un anno e mezzo fa. Quante donne si fa il Met a Rizzone? Quante donne si conquistano facendo il Met a Rizzone? Qualcosina. Qualcosina? Sì, sì, qualcosina. Più facendo il Met, più facendo lo chef. Siccome è più la sala in quel caso. Sì, è proprio la sala. Che fai stasera? Consiglio alla discoteca? Si lasceranno domani. Bene, allora. Lui è Marta Flavia all'incontrario, capito? Cioè, lui li fa lasciare in questa televisione di cucina. Guarda che sarebbe stupendo. Pensa quanti programmi televisivi fanno per mettere insieme le persone. Io lo faccio per salvarle. Il gioco delle scoppie. Dello scoppio. Allora, un raviolo allo scoppio da Chiara Maci, che di pasta fresca se ne intende. Sì, allora, il raviolo, vabbè, ovviamente mi piace di pesce, di carne, di qualunque cosa, ce n'è uno che adoro, che è di squacquerone. Condito con una passatina di fave o di una passatina di cavolo, di broccolo romanesco. O condito solo con la saba? Anche, volendo, che potrebbe essere anche il dolce salato, assolutamente sì. Allora, lo metti dentro una piadina con crudo e rucola. Esatto. Il raviolo. All'appo un minimo, però con l'acquaraggia poi va via tutto. No, io invece faccio una cosa più semplice. Mi faccio fare la pasta da Chiara Maci, che me la manda col fax. E una volta che ho le sfoglie, faccio un trito di pomodorini secchi, olive e la stracciatella, ok? Quando la chiudo ci metto soltanto un po' d'acqua e d'olio e basta così. Un paio di cose sul raviolo. Il raviolo è, diciamo, un po' l'antesignano degli one shot, no? Perché è progettato per essere mangiato in un boccone e non per essere tagliato. E deve essere progettato a seconda della farcia. Cioè il condimento è la parte meno, diciamo, funzionale al progetto raviolo. Invece la farcia deve essere commisurata alla pasta. Cioè un impasto delicato o più bello cicciotto? Un impasto bello saponito o piccolino? Più bianchi o rossi? Intendo, se li vuoi, il ricotta e spinaci. Burro, che trocchia da fare, parmigiano. No, la tua è burro, 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 formaggio, 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 formaggio. 3 minuti e 12 secondi per impiattare. Qua le abbiamo chiusi a mo' di mezzaluna, quasi rotondi. Perfetto. I ravioli che vi ho dato prima, che ho dato un impasto con la sfoglia all'uovo, diciamo, per mettere un po' d'accordo tutta Italia, nel sud Italia si fanno, soprattutto nel napoletano, questo si chiama anche raviolo caprese in questo caso, si fanno con l'impasto di acqua e farina e basta, volendo. Vabbè, ce la fai a rifarle, forse, eh? No, lui voleva, perché lui ha questa idea, no? Sentite questo, se voi bruciate le mandorle, hanno questo profumo di focaccia, di roba tostata, no? Di pane appena sfornato con l'olio. E lui metterà questo vicino per dare questo influsso, per farti sentire a casa. Cioè, era voluta questa cosa. Sì, 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 invece se non hai l'incenso, bruci delle mandorle. Tagliali bene, eh? Perché il raviolo era il tema, è il tema. E quindi anche lo spessore, perché spesso quando si fa raviolo, poi si preme con le mani per... Anche dopo che l'hai staccata dal tagliere, se no dopo fai bollire tutto il tero, butti tutto in acqua. Vi aiuta molto. Di là siamo già in cottura. Il questo, mi dicevi, è un pecorino che è stato... Sì, il latte di pecora ha lavorato come il grana, praticamente, infatti, si chiama grana anglona, o gran sardo, secondo delle zone. Ok. Sei sempre così seria? Sì. E la tensione, dai. La tensione? Sì, grazie. Lei è ribruciato un'altra volta? Vabbè, mettiamo anche delle candele. Come fate a ribruciare? Capitato, è capitato. Allora. Oh, bravo. Se è calda fuori dal fuoco è stupenda. Vai di là. Oh, allora. Ok. Allora, la padella è stata fusa, riplasmata su. Ok, scoliamoli e mettiamo anche un goccio di sale, se volete, nell'acqua. Mancano 45 secondi, vengo qua soltanto per darvi modo di agire da soli, senza di me che vi rompo le scatole intorno. Sai come mi piacciono anche a me? Non so se si può chiamare raviolo. Fatti lunghi. Cioè, l'altro giorno giocavo fatti stretti e lunghi. Cioè, tiri la sfoglia, la tagli a strisce abbastanza sottili, poi metti l'impasto praticamente col sac a poche lungo, ovviamente, che ne so, 12 centimetri, poi lasci un centimetro e così continui. Lo arrotoli sopra, lo chiudi solo da un lato, come se fosse a cerniera, e poi gli dai la botticina in mezzo e le chiudi. E ti vengono una sorta di pappardella ripiena, Sì, tipo tagliatella ripiena. Sì, ne servi due o tre, e sono carino perché ci riesci a mettere il zughetto sopra e ci sta fermo. Però vanno tagliati quelli. Però va tagliato per mangiarlo. Oppure lo mangi intero così. 3, 2, 1, stop! Brava, brava. Pronta, perfetta in tempo. Mettilo, mettilo quello. Mettelo. 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 Devo metterlo qui. Allora. Hai rubato qualche ricetta allo chef? Qualcuna. Qualcuna. Fra l'altro la mamma di Samu è una cuoca, quindi se sbagli qualcosa poi accade. Dopo accade, quando arrivo a casa. Allora. Ha un titolo? Ravioli delicati. Questo è il piatto di Fabrizio. Cipolla rossa di tropea dentro, fuori. Il cacao non l'hai messo però. No, ho messo il... Sì, il cacao amaro sopra, sì. Hai messo il cioccolato. Il cioccolato, scusa. Allora. C'è un problema di fondo, nel senso che la sfoglia, essendo stata tirata molto grossa, fai fatica a masticarle, quindi fai fatica anche ad assaporare l'interno, ma non solo. essendo molto asciutto all'interno, perché c'è solo la cipolla. Magari la cipolla lavorata con un formaggio all'interno, un formaggio morbido, anche la ricotta, dava comunque una consistenza all'interno che... perché qui il ripieno ovviamente diventa fondamentale, per cui l'idea cipolla-cioccolato mi piaceva anche da assaggiare, però così vengono meno entrambi. Oppure stracotta un po' di più e resa quasi mostarda. Io vado. Sì, insomma, ci vuole un taglialegna per inciderlo. Concordo con Chiara, il cioccolato è stato una buona sorpresa. Manca un emozionante, un legante per l'interno, però è un'idea. Hai detto che i ravioli sono un boccole solo? Stavo, guarda. Dai, prova. Ah no, l'hai detto. È progettato per essere mangiato in un sol boccone. Qui invece bisogna usare anche il coltello, magari anche il seghettato, parafrasando i grandi veronelli. Sì, resti sincero. No, qui è proprio tutto sbagliato. È solo l'idea buona, ma la pasta è cruda, alta, c'è del vuoto all'interno, un'intercappella è troppo spessa, la parte è umida, ma non legata della cipolla, insomma, ci sono tanti problemi. C'è di bella l'idea. Anche la tiatella c'è. Allora, cambiamo, piatto di Samuele. Dentro c'è erbette di campo bollite e tritate, roviola e fiore calendula, un po' di parmigiano. E poi abbiamo speso 60 euro in mandorle per mettere qualcosa. Allora, anche qui l'idea è molto buona. Anche qui c'è un po' lo stesso errore della sfoglia, tirata non bene. Io l'aiuto l'avrei usato proprio per tirare la sfoglia, al tuo aiuto. Nel senso che lo so che non è semplice in pochi minuti, però in questo modo non si sente mai il ripieno, anche se qui è più cremoso. Comunque è meglio del caso precedente. La mandorla in realtà va bene, perché è tostata così, un po' croccante, è costata tanto, ma è buona. No, l'abbiamo fatto delle volte. Sì, mi pare di aver capito che siamo due gradi meno del carbonio 14, quindi possiamo anche derivare l'età della pianta. Allora, queste sono le mie bolle. le botte di scienza. Sì, che lascio qui il cucchiaio, non rida che è una trasmissione drammatica. Allora, c'è della tensione qui dentro. Ah, questo, vedi? Con una lama da macete viene meglio, però. Quello che ho visto... Quello che ho visto con entrambi i piatti è che l'otturazione del mio dentista tiene da paura, cioè tiene proprio bene, ho speso bene i soldi. Bene, è marmorea e si sente questo vago retrogusto di incendio da piccolo. Questo è più o meno quello che... Vago retro... Perché sta prendendo il modo di parlare e ne lo diamo poi. Vago retrogusto di incendio da piccolo. Che è di piccolo quando hai visto la casa prendere fuoco, diciamo. Aspetta che ti vado più nelle tue corde. Bravo, bravo. Beh, in effetti è utile. Hai fatto una cosa perché almeno lubrifica un po' questa sorta di... Che dire? Aquilone, come lo vogliamo chiamare? Aquilone, ligno, materiale. Stavo cercando di pescare la parte più... Allora, presupposto. Stiamo scherzando perché comunque... Sì, sono un po' sbagliati ma avevate 12 minuti. Quindi noi premiamo anche l'idea però adesso stiamo un po' scherzando. No, scherzerai tu. Mentre tagliava mi è partita una scheggia di raviolo qua. Mi sono fatto malissimo. È stato aiutato dal fatto che tu abbia aggiunto un po' di salsa che almeno rende un po' piacevole un boccone che per versi è proprio cartonato quando la pasta è assolutamente inossata. Che dire? Anche qua l'idea magari è un'idea diciamo plausibile. È l'esecuzione che non funziona. Benissimo, insomma. Siamo andati da Dio. Però se li sono mangiati. Allora, la prima sfida è anche quella più difficile. C'è da prendere confidenza con la cucina. Questo è il piatto di Fabrizia. Aveva un titolo, me l'avevi detto? Ravioli delicati. Ravioli delicati. Per poi andare a quelli di Samuele che avevano dentro. Raviola. No, il piatto, scusa il titolo. Ah, ravioli con erbe di campo e calendula. Ma proprio bene, bene, bene. Una botta di vita però c'è solo una cosa positiva. Siete pari. Cinque pari.